lunedì 19 settembre sono le 7 del mattino buongiorno a tutti voi ben ritrovati a questo appuntamento con la rassegna stampa con i giornali titoli che troveremo e che le andiamo a leggere tra poco sulle prime pagine dei giornali sono molte naturalmente le notizie andremo a vedere qual è la situazione nelle marche lo sapete colpite pesantemente da quell'alluvione sono 11 le vittime si continuano a cercare ancora i due disperzi ma si fa anche un primo bilancio dei danni pesantissimi che hanno colpito il territorio e poi andremo a vedere anche andremo a londra vediamo si prepara il regno unito a dare l'ultimo saluto alla regina elisabetta seconda si chiude tra poco la camera ardente nonostante una lunga fila di persone che vogliono rendere l'ultimo omaggio alla sovrana sono oltre 500 i capi di stato e dignitari presenti per i funerali solenni vi ricordo che a partire dalle 11 di questa mattina noi seguiremo in diretta con uno speciale con ospiti inviati a londra con uno speciale condotto dal direttore enrico mentana seguiremo i funerali e poi ci sono ancora altre notizie tornando sui giornali naturalmente la politica perché quella che si apre oggi è l'ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto di domenica prossima insomma ci sono molte altre notizie andiamo a leggere insieme e partiamo dal Corriere della Sera duelli accuse tre leader il titolo è proprio sulla politica Meloni si cerca l'incidente ha protestato ancora una volta con la ministra dell'interno della Morgese ha detto ci sono ormai ricorrenti queste contestazioni ai miei comizi dice mai il ministero dell'interno non fa nulla e poi le critiche all'unione europea questa è un'altra polemica che si è prodotta negli ultimi giorni nei confronti dell'ungheria l'unione europea ha deciso ha discusso di provvedimenti da prendere nei confronti di budapest di victor orban e c'è la sospensione dei pagamenti di per circa 7 miliardi e mezzo ma insomma vedremo poi e nel dettaglio che cosa vuol dire e poi nell'occhiello letta il segretario del pd punta sulla spinta dei sindaci del pd zaia autonomia il prossimo governo non avrà scelta ieri appunti da luogo storico lo sapete degli incontri della lega ha parlato matteo salvini e poi andiamo a vedere appunto il titolo sui funerali della regina qui vedete biden insieme alla consorte a londra l'inchino dei grandi per elisabetta l'ira di mosca mosca non è stata invitata siamo stati esclusi e poi queste due foto notizie si riferiscono al campionato di calcio nelle partite si sono giocate ieri la juventus sconfitta a monza e poi la crisi di inter il milan cede al napoli andiamo a vedere la prima pagina di repubblica l'ultima settimana elettorale ci ricorda il giornale diretto da maurizio molinari sovranità unione europea da discutere meloni attacca l'europa prima l'interesse nazionale e sulle contestazioni ai comizi critica la morgesi come vi dicevo prima le critiche alla responsabile al titolare del viminale e poi brussel pronta a bloccare 7 miliardi e mezzo di fondi a orban parliamo di ungheria e draghi va a new york oggi inizia una sua missione un suo viaggio negli stati uniti si resterà lì per circa quattro giorni gli verrà tra l'altro consegnato un premio molto prestigioso e poi prodi un'intervista il piano della leader di fratelli italia giorgia meloni ci isola e può far crollare l'unione abbiamo un commento di ezio mauro cosa ci aspetta se vince la destra e poi joseph borrell che è il responsabile degli affari esseri diciamo il ministro degli esseri europeo sostanzialmente che dice l'occidente unito può fermare putin e naturalmente parliamo di ucraina la foto notizia a cantiano il paese che non c'è più guardate questa foto mostra la devastazione delle acque quello che è riuscito a fare davvero in pochi minuti il titolo sulla regina eccolo qui presidenti e sovrani riuniti a londra per l'ultimo addio a elisabetta seconda vediamo la stampa l'unione europea taglia i fondi all'illiberale orban parliamo di ungheria la leader dei fratelli italia è ritata dalle proteste chiede aiuto alla lamorgese salvini e le due leghe al governo per cinque anni questo è quanto ha detto ieri appunto il leader della lega di spalla pioggia sulle marche c'erano quattro ore per salvare la gente poi un'intervista andremo a leggere speriamo agenzia media in difesa era un evento imprevedibile e ancora vediamo il messaggero meloni cercano l'incidente sesta contestazione in 15 giorni la leader di fratelli italia chiama in causa lamorgese sull'ordine pubblico salvini appunti da via il cano nerai letta attacca il raduno leghista e dice monza dice una provincia dell'ungheria e poi questa curiosità woody allen annuncia il suo ritiro dal cinema eccolo vedete qua in alto dice il mio ultimo film poi solo romanzi ha deciso di darsi per così dire alla scrittura il titolo sulle marche eccolo marche sott'acqua gli esperti meteo nel mirino dei pubblici ministeri tecnici avrebbero sottovalutato la portata della perturbazione acquisite le mappe aeree e poi le due foto si riferiscono al campionato di calcio un altro stop per la roma lazio sorpasso con goleada questo è il titolo del messaggero allora sono le sette sei minuti diamo la linea alla regia qualche istante pubblicità il tempo di bere un caffè se volete e poi ci ritroviamo qui con la lettura dei giornali vi aspettiamo 11 minuti dopo le sette ben ritrovati la prima pagina è quella del fatto quotidiano andiamo a leggerla perché dall'alto conte scarpinato eccolo qui le mafie preparano il banchetto sul pnrr cioè sui soldi che arriveranno dall'europa e poi bin salman a destra quando un dittatore amico le sanzioni finte per bin salman non parteciperà ai funerali della regina elisabetta seconda insieme anche putin è stato escluso e poi il titolo le due leghe sfidano meloni letta tifa per i voti ai 5 stelle ultima domenica di campagna elettorale folla sfiduciata a pontida a proposito del raduno che c'è stato della lega andiamo sul sole 24 ore famiglie all'arma inflazione tutte le mosse per tagliare le spese dagli alimentari e trasporti dalle bollette all'abbigliamento le scelte per risparmiare dal governo un nuovo aiuto da 150 euro e poi di taglio più centrale sotto bonus casa 100 miliardi per le eccessioni c'è questa notizia però che certamente non ci fa piacere in particolar modo per chi va all'università università 2022 rischio raddoppio per il costo dell'energia vediamo un'altra prima pagina andiamo sul foglio ritratto la foto è quella di enrico letta il segretario del partito democratico anche lui naturalmente in campagna elettorale enrico letta sul voto di domenica quasi un referendum se vincesse la destra staccherebbe l'italia dal resto dell'europa ma lui è certo non consegnerò al paese la meloni vinciamo noi le accuse a calenderrenzi la necessità di recuperare la lezione di draghi chiacchierata con il segretario del pd vi segnalo anche il commento del direttore del foglio cerasa le scissioni fanno male ma in questa corsa al voto al voto potrebbe potrebbero funzionare vediamo il domani di cosa si occupa la vera storia del caso richetti nel giro di accuse anonime di moleste di denunce spunta l'indagine su un'attrice che potrebbe finalmente fare chiarezza questo è il titolo scelto a tutta pagina dal domani vediamo il giornale ospita un'intervista a giorgia meloni pronta a governare la leader di fratelli d'italia da letta e c fake news mai visse sono loro i veri anti ue alleati coi nostalgici dell'urse le femministe non vogliono una donna di destra al premier poi bruxelles minaccia di tagliare 7 miliardi e mezzo di aiuti all'ungheria ancora vediamo un altro giornale libero in 100.000 a pontida l'incontro che c'è stato ieri e con il gli elettori i sostenitori della lega si autonomia no tasse è tornata la lega dura sul pratone si riferisce naturalmente a pontida salvini lancia il patto in sei punti del carroccio faremo la flat tax il centrodestra resterà unito cinque anni poi la promessa di matteo cancelleremo il canone rai andiamo a vedere altri giornali il resto del carino guardate questa foto a distanza di giorni però ci fa capire di che cosa veramente è successo in quei luoghi l'italia che affoga marche le carte shock pericoli noti dal 2016 la mappa del dissesso 12 milioni di italiani a rischio alluvioni e continuano senza sossa le ricerche del piccolo mattia e anche di una donna insomma sono continuate anche nella notte vediamo la verità roma indaga sui guadagni dei benettoni ipotesi di reato truffa i danni dello stato e peculato chiudiamo questa lettura delle prime pagine alleggerendo un po gli argomenti parlando di sport andiamo sulla gazzetta dello sport canta napoli rabbia milan e poi juve inter a picco i tecnici nel mirino sotto accusa allegri a sinistra in zaghi allegri solo e confuso tradito a di maria il monza fa la storia perché ha battuto la juventus e poi in zaghi flop coi cambi colpa mia 40 giorni per risalire e udine e sogna e allora queste erano le prime pagine andiamo a vedere nel dettaglio voglio partire da dalla situazione nelle marche alluvione quelle quattro ore sprecate questo scrive la stampa pagina 12 dalle prime richieste d'aiuto in montagna fino all'inondazione dei paesi più a valle i sindaci accusano il sistema di allerta e allora vediamo che cosa scrive la stampa per il pomeriggio di giovedì 15 settembre ve lo evidenzio ecco era stata diramata un'allerta verde il pericolo poteva al massimo essere di qualche raffica di vento più forte di altre è arrivata una massa di acqua pari a sette mesi di pioggia ha provocato 11 morti due disperse migliaia di case attività allagate non è la prima volta che il sistema si rivela inefficace ora sindaci e tecnici si chiedono se sia arrivato il momento di sostituirlo almeno integrarlo con qualcos'altro il primo a chiederle a Maurizio Greci sindaco di Sassoferrato in caso di fenomeni estremi bisogna attivare un sistema diverso di monitoraggio in modo tale che se qui i fiumi esondano e abbiamo le persone intrappolate negli edifici allagati ci deve essere una segnalazione agli altri comuni a valle che nel giro di poco tempo tutto questo si scaricherà verso la costa mi permetto di dire ma io speravo che già ci fosse andiamo a pagina 13 perché c'è un'intervista a Carlo Cacciamani è il direttore dell'agenzia Italia Meteo dice ci aiuteranno i super computer ma la sfida è gestire l'emergenza e allora dice un evento così a oggi dice non era prevedibile faremo un'analisi sempre faremo analisi sempre più precise per ridurre il rischio vanno però messi in sicurezza i territori questo è quanto dice e allora la domanda che cosa è accaduto nelle Marche quali erano le previsioni sono scesi più di 400 mm di pioggia in 6-7 ore quasi la metà di quel che piove in un anno con un'intensità che in certi casi ha raggiunto i 30 mm ogni quarto d'oro c'era un flusso di correnti instabili da sud ovest che si muovevano dal terreno all'Adriatico il mare è molto caldo il Mediterraneo è sui 26 gradi una pompa di umidità che ha interagito con l'orografia questo è quanto scrive poi tra l'altro vedete questa foto dice un ponte romano di 2000 anni fa che però ha resistito alla piena e ancora vi voglio leggere questa domanda anche con la risposta interessante il cambiamento climatico impone di rivedere i modelli di previsione perché questi modelli molto probabilmente non avevano previsto questo tipo di impatto dice anche le risposte nostre in emergenza sicuramente sarà necessario anche qualche ritocco ai sistemi modellistici sviluppati con un clima che non è più lo stesso insomma dovranno essere ritoccati anche i nostri sistemi di allertamento dovremo fare tutto più presto tutto più in fretta questo è quanto sostiene e quanto noi naturalmente auspichiamo restiamo ancora a parlare delle marche perché appunto non si trova un bambino e anche una donna è inghiottito dal fiume Mattia non si trova non ci arrendiamo centinaia di soccorritori cercano il corpo del bambino il padre non me ne andrò finché non lo avremo trovato una situazione davvero straziante e poi sempre la stampa continua a seguire la vicenda delle marche lo scaricabarile i sindaci accusano i tecnici il governatore e i suoi predecessori la protezione civile e gli ambientalisti tutti contro tutti per i lavori mai eseguiti sul fiume sondato il piano del 2016 diceva che gli interventi erano necessari allora il capo del genio civile parliamo di Ancona abbiamo fatto molto ma appena ci muoviamo qualcuno ci interrompe questo è quello che denuncia poi accanto un'altra intervista Paolo Turchi del comitato contrario alle opere dice quella vasca è inutile non sarebbe servita a fermare fango e detriti insomma come sempre le polemiche che speriamo però possano portare a qualcosa voltiamo pagina ci sono i funerali della regina Elisabetta II vi ricordo ancora alle 11 li seguiremo con uno speciale condotto dal direttore Enrico Mentana andiamo sul Corriere della Sera il summit del secolo per Elisabetta un rebus diplomatico e di protocollo oggi il funerale Biden il mondo è migliore grazie a lei Mosca esclusa Bin Salman invece rinuncia a partecipare e allora il corrispondente che cosa scrive il summit internazionale del secolo 500 dignitari di 200 paesi tra i quali circa 100 capi di Stato e di Governo i funerali di Elisabetta sono anche un grande evento diplomatico bisogna andare indietro alle segue di Mandela o a quelle di Giovanni Paolo II per trovare qualcosa di simile andiamo molto rapidamente questo è il percorso che seguirà il feretro con i vari appuntamenti e anche i leader presenti tra i quali naturalmente anche il nostro Presidente della Repubblica Mattarella un'altra questione l'Europa contro Orbán rischia un taglio di 7 miliardi e mezzo l'Ungheria per alcune mancanze che ci sono proprio nei protocolli europei il Budapest però sicura interverremo e allora Vittor Orbán cerca l'aiuto di Giorgia il voto dell'Italia sarà decisivo per bloccare la Maxi stangata rapidamente vi avevo detto un'intervista a Giorgia Meloni la trovate sul giornale a pagina 2 e 3 dalla sinistra fake news e livelli mai visti loro i veri anti-europeisti sono pronti a governare non esistono pregiudizi dell'amministrazione americana 7 e 21 minuti c'è Paolo Sottocorona Paolo ti do il buongiorno e ti chiedo anche però alla luce di quello che hai sentito anche tu quelle interviste qualcosa non ha funzionato è evidente dobbiamo rivedere forse i parametri di intervento per prevenire e scongiurare finalmente queste immani tragedie parlo delle Marche a te Paolo buongiorno grazie buongiorno io credo che vada fatto un lavoro a tutto campo nel senso che dare come è stato fatto come ho sentito le spiegazioni del perché è successo quello perché c'era l'umidità c'erano i venti significa che si poteva prevedere questo non è vero perché non si poteva prevedere nel senso quando il modello ti dà una normale intensità del fenomeno non puoi dare l'allerta massima per sicurezza perché sarebbe sempre allarme rossa e non servirebbe a nulla i modelli mostrano localmente e temporaneamente isolatamente qualche carenza non riescono a stare dietro a fenomeni più irregolari dovuti al cambiamento climatico questo è lo schema poi noi cosa possiamo fare migliorare i modelli si sta lavorando a questo sul non fare le opere non sono d'accordo le opere servono e serve un'informazione un'allerta più capillare come esiste in altre parti del mondo quando c'è il rischio tsunami partano milioni di sms a tutti questa è una cosa che non costa moltissimo credo non c'è da costruire nulla ma a tutto campo nei vari settori c'è sicuramente qualcosa da fare perché queste cose possono succedere ma non devono dare questi effetti è tutto qua scusate se è poco allora questo minuto lo recupereremo alle 8 la giornata di oggi queste nuvole a est diciamo daranno qualche debole fenomeno per quello che riguarda la giornata di oggi ma soprattutto il pomeriggio infatti la carta prevista per oggi dà qualche pioggia in prevalenza debole sul Veneto e poi sulle zone centrali di nuovo sull'Adriatico ma vedete che l'intensità prevista è molto bassa e qualcosa al sud sono piccole incertezze del tempo non sono previste strutture molto intense giornata di domani forse qualcosa in più qualcosa appena più consistente come piogge soprattutto sul nord est oltre alle zone alpine vedete che quella zona di incertezza si sposta un poco verso sud a prendere soprattutto le regioni centro meridionali soltanto sul Gargano è previsto una zona con qualche fenomeno un isolato temporale per intenderci e poi la giornata di mercoledì in cui ancora questa leggera instabilità si presenta in Sicilia, in Sardegna, zone del centro, Emilia Romagna e poi le zone alpine e prealpine scusate quindi qualche incertezza sempre e soprattutto nel pomeriggio i due flash finali, le temperature, ne sarete accorti, sono scese quindi le minime sono relativamente basse un poco sotto media ogni tanto succede e lo stato dei mari prevale il celeste dei mari poco mossi però il canale di Sardegna lo Ioni o parte dell'Adriatico potrebbero anche essere mossi ci vediamo più tardi intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angiolicchio più tardi grazie a tutti